Inutile dire che vinciamo, vinciamo, ma sempre il campo è quello che risponde. Dobbiamo essere umili, mettere tutto dentro, è quello che stiamo facendo adesso. Non è facile perché ovviamente siamo un po' calati di morale, di tutto, ma ci alziamo, è questo che facciamo nel nostro quotidiano, lo stiamo facendo bene e affronteremo queste partite, penso che è bene, poi non ti posso dire che la vinciamo di nuovo perché se no caschiamo sulla stessa cosa di promettere, pressione o quello che si aspettano tutti, non ha senso. Noi andiamo in campo a giocare, affrontiamo squadre buone e vediamo come va.